Sarà la trasferta dello Zini di Cremona ad aprire il campionato delle Pescara. Il sorteggio del torneo di Serie B ha avuto una gestazione piuttosto complessa dopo la decisione di varare un format a 19 squadre. Una linea di indirizzo già presa nelle settimane scorse dalla Lega è che ieri ha ricevuto la benedizione quando è arrivato l'ok anche dal commissario della Federcalcio Fabricini che ha firmato il comunicato che ha dato il là alla modifica. Comunicato la cui attesa ha fatto slittare di circa un'ora e mezza il sorteggio fissato ieri per le 19 ma effettuato intorno alle 20 e 30. Per ora il calendario c'è ma colpi di scena nei prossimi giorni non sono esclusi con le non ripescate che promettono battaglia a colpi di carte bollate. Catania, Novara, Provercelli, Siena, Intella, Ternana. Rimostranze sono arrivate dai direttanti alla Lega Pro il cui presidente Gabriele Gravina minaccia il blocco del campionato di Serie C. Il presidente della Lega di Serie B Balata ha tirato dritto per la sua strada spiegando il perché. Io ho massimo rispetto per tutti, ho sempre avuto massimo rispetto per tutti coloro che fanno calcio per cui ci siamo trovati in questa situazione, abbiamo atteso, ripeto, le scelte e le decisioni della Federazione Italiana Gioco e Calcio, dovevamo tutelare le nostre società e far partire questo campionato, esercitare un diritto di quelle società che ci chiedevano e ce l'hanno chiesto più volte, di avere certezze anche da questo punto di vista, giuridiche, c'era un interesse anche pubblico da salvaguardare. Ci ho detto quello che accade al di fuori della mia Lega, io non posso saperlo, ne ho la sfera di cristallo, ne abbiamo viste tantissime in questo periodo, quindi. Ecco, io credo, l'unica cosa che posso dire è che bisognerà, e l'ho detto anche altre volte, ragazzi, fare una riflessione profonda, avere regole certe, avere tempi più accelerati e dare maggiori certezze ai soggetti che operano nel mondo del calcio. Prima giornata aperta dall'anticipo Brescia-Perugia, venerdì 24 agosto, il Pescara debutta a Cremona, non si sa ancora se è sabato 25, domenica 26, in quello che sarà sempre più un campionato spezzatino, con l'anticipo del venerdì, trasmesso da Rai e poi le altre sulla piattaforma Dazon. Quattro gare il sabato, tre alle 15, una alle 18, tre gare la domenica, due alle 15 e una alle 21, più il posticipo del lunedì, sempre alle 21. La prima gara a Casalinga alla seconda giornata, quando il Pescara ospiterà il neopromosso Livorno, quindi trasferta sul campo dell'ambizioso Brescia e seconda gara a Casalinga contro il Foggia. Campionato duro per i biancazzurri, che dovranno subito trovare la loro dimensione. Sono diminuite le squadre da 22 a 19, ma resta invariata la formula. Prime due in Serie A, ai play-off partecipano le squadre dal terzo all'ottavo posto, a meno che tra terza e quarta non ci siano più di 14 punti. Retrocedono le ultime tre e poi play-out tra quart'ultima e quint'ultima. Quart'ultima giù in Serie C, se ci sono più di quattro punti di differenza dalla quint'ultima. Insomma, guai per il Pescara a ripetere una stagione come quella scorsa. Ovviamente tutte le squadre osserveranno una giornata di riposo. Per il Delfino sarà la terz'ultima di andata e ritorno. I biancazzurri chiuderanno il torneo giocando a Venezia e ricevendo la Salernitana l'11 maggio. Novità sarà la presenza di soste per le partite della Nazionale insieme con la Serie A, mentre si conferma l'impegno nel periodo natalizio. Tra il 23 e il 30 di dicembre si disputeranno le ultime tre giornate di andata, ripresa del campionato il 19 gennaio.